Buonasera ben ritrovati ad un nuovo spazio dedicato all'informazione incidente sul lavoro in provincia di Padova un uomo che stava lavorando in un'azienda a Boccon di Vò è rimasto ferito con gli arti inferiori bloccati da uno strumento l'uomo di circa 50 anni è stato soccorso dall'elicottero del 118 che ha atterrato sul posto e lo ha trasportato all'ospedale di Padova non sarebbe in pericolo di vita ma le ferite che ha riportato sono gravi sul posto come sempre accade in questi casi è intervenuto lo Spisal assieme alle forze dell'ordine. Sulla regionale 308 in provincia di Padova la nuova strada del Santo dove è avvenuto nei giorni scorsi il mortale che ha strappato la vita di Giordano Sanguinetti è stato posto un cartello con il segnale di pericolo. In quel tratto di strada all'altezza di Brani la vittima dell'incidente che era a bordo di una moto è finito fuori strada rimettendoci la vita. Subito dopo la tragedia i familiari del 21enne si erano accorti che proprio in quel punto c'è una buca che potrebbe essere proprio la causa dell'incidente e sono in corso delle indagini. E adesso continuiamo parlando di un altro incidente avvenuto questa mattina presto poco dopo le sei e mezza a Scorzè in provincia di Venezia due le persone ferite. Scontro violento tra due automobili in provincia di Venezia in via Crosarona a Scorzè. Feriti i due conducenti l'incidente è avvenuto dopo le sei. Due feriti che sono stati soccorsi dal 118 e trasferiti all'ospedale. I pompieri arrivati da Mestre con il personale di prima partenza e l'autogru hanno messo in sicurezza i mezzi. Sul posto le forze dell'ordine per i rilievi del sinistro. E continuiamo con altre notizie. Sono oltre 110 mila gli articoli per il carnevale che sono stati sequestrati nei giorni scorsi dalla Guardia di Finanza di Venezia tra la città lagunare e la terraferma. Gli articoli sarebbero stati venduti senza le etichette previste dalla legge e dunque potrebbero essere potenzialmente pericolosi per la salute. Sassi dal cavalcavia per colpire le automobili di passaggio. Un terribile ricordo per il territorio e purtroppo qualcuno ha messo in atto ancora una volta questo gesto criminale. È successo domenica sulla Pedemontana a Trevignano. Il conducente che è stato colpito al parabrezza ha immediatamente accostato all'automobile e chiamato la polizia stradale. Ma in particolare l'automobilista ha avvistato anche chi ha lanciato i sassi e ha lasciato una descrizione precisa alla polizia. In particolare si tratterebbero di tre ragazzi. L'uomo ha anche diffuso un post attraverso i social con la descrizione di un motorino sul quale stavano viaggiando i giovani. Adesso ci spostiamo a Venezia dove oggi sono state consegnate due nuove barche in grado di operare in emergenza. Sono state consegnate alla protezione civile. Guardiamo. Due nuove barche in grado di operare in emergenza con condizioni meteomarine avverse e di trasportare materiale e mezzi anche nei canali interni del centro storico. Le imbarcazioni sono state consegnate al gruppo protezione civile del comune di Venezia dal vice sindaco Andrea Tomaello e dal comandante generale della polizia locale Marco Agostini nel corso di una breve cerimonia che si è svolta nella sede del tronchetto. I nuovi mezzi consentiranno di potenziare l'impegno dei volontari che operano nel centro storico, nelle isole in laguna, in numerose attività di assistenza, prevenzione e soccorso. Sentiamo Francesco Vascellari, responsabile del servizio di protezione civile del comune. Due barche che hanno un motore di grossa potenza e che possono trasportare fino ad 8 persone e fino a 2 tonnellate di materiale. Questo ci permette di essere sempre più presenti nell'attività di assistenza e eventualmente soccorso in quello che è un ambiente lagunare. Il gruppo comunale di protezione civile attualmente riunisce 200 volontari nelle quattro sedi distribuite tra Venezia, Mestre, Marghera e Pellestrina. Il servizio è supportato da un nucleo di operatori a Lido. Un impegno di 100 mila euro quasi per queste due imbarcazioni nuove a servizio della protezione civile e a servizio della città di Venezia che possono essere usate dai volontari nelle occasioni di emergenza ma anche nelle attività quotidiane. Un impegno del comune di Venezia per sostenere l'attività della protezione civile e l'attività dei tanti volontari che quotidianamente si impegnano a favore della nostra città e a servizio dei cittadini. E adesso una notizia che arriva dal mondo della sanità, una notizia che arriva dall'azienda ospedale Università di Padova. Il professor Angelo Moretto, direttore dell'unità operativa complessa medicina del lavoro e professore di medicina del lavoro, è stato nominato ufficialmente in questi giorni dal direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, membro esperto del comitato consultivo dell'OMS sulla sicurezza dell'alimentazione. Compito della professor Moretto sarà il costante aggiornamento e la valutazione tossicologica sulla contaminazione da sostanze chimiche degli alimenti. La nomina di membro esperto del comitato consultivo sulla sicurezza dell'alimentazione avvenuta previa consultazione con il governo italiano avrà durata di quattro anni. Oltre a complimentarsi con il professore che ha accettato la nomina, l'azienda ospedale Università di Padova esprime pieno sostegno del delicato compito che lo attende. Adesso parliamo del terremoto in Turchia, sul posto intenso il lavoro anche dei vigili del fuoco italiani che si sono già avvicendati tra due team. Continua il lavoro dei soccorritori tra Siria e Turchia nelle aree devastate dal terremoto, una corsa contro il tempo. Grande anche l'impegno dell'Italia. Nei giorni scorsi il team dei vigili del fuoco si è avvicendato con nuovo personale. Il contingente italiano arrivato sul posto è composto da 48 soccorritori USA di Lazio, Toscana, Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Umbria e Veneto. I vigili del fuoco rientrati nei giorni scorsi hanno salvato due ragazzi che erano rimasti sotto le macerie e hanno recuperato 11 vittime. Il nuovo gruppo, il contingente USA del Veneto, Friuli Venezia Giulia dei vigili del fuoco è composto da 15 unità guidate dall'ingegner Francesco Cicirello, funzionario del comando di Treviso e così suddivisi. Tre vigili del fuoco provengono dal comando di Venezia, tra cui un nucleo cinofilo, quattro vigili del fuoco del comando di Belluno, tra cui un nucleo cinofilo, due Rovigo, uno da Verona, uno di Padova, uno di Ordenone, due nuclei cinofili del comando di Gorizia. Dal 15 febbraio aumentano le sigarette, ogni pacchetto costerà 20 centesimi in più. L'aumento riguarda anche sigari, tabacco da fiuto, da mastico, da pippa e da inalazione. Il rialzo è già stato annunciato anche sul sito della Federazione Italiana Tabaccai. Sagra Madonna di Lourdes, grande successo a Campania Alta nella comune di San Martino di Lupari in provincia di Padova. Guardiamo. Voglia di stare insieme, di socializzare e condividere. Grande successo per l'apertura della Sagra Madonna di Lourdes a Campania Alta nel comune di San Martino di Lupari in provincia di Padova. Organizzata dall'Associazione Campania Alta insieme con il patrocinio della città di San Martino di Lupari, ha richiamato un grande successo di pubblico nei primi giorni di apertura. Un successo che consolida l'attività di decine di volontari che dedicano il loro tempo con passione e impegno a portare avanti le tradizioni del territorio. Una cucina impeccabile con i sapori della buona tavola funziona fino alle 22.30. Un ampio parcheggio esterno con la presenza dei volontari che indirizzano le auto permette di gestire l'afflusso in maniera fluida e ordinata. Le serate danzanti fino alla fine di febbraio vedono salire sul palco un cast di eccellenza con le migliori orchestre di musica da ballo in diretta su Telecittà. Oltre al grande risultato in termini di presenze sul posto, le prime serate hanno già fatto un record di ascolti televisivi. Ogni diretta è visibile anche sulla pagina Facebook di Telecittà con un successo di condivisioni e con un seguito che fa ben comprendere la voglia di spensieratezza delle persone dopo anni difficili. Momenti fondamentali che aiutano a mantenere le tradizioni e che fanno bene al territorio. E saremo in diretta con la festa di Campania Alta anche questa sera a partire dalle 21.15. Uno sguardo alle condizioni climatiche, il cielo domani sarà sereno salvo nelle ore più fredde dove saranno probabili nebbie sparse e occasionali nubi basse sulle zone pianeggianti, assenza di precipitazioni. È tutto per questa edizione, tra poco ancora informazione, io vi saluto e vi auguro un buon proseguimento.